Successo di pubblico per il musical Lucia, una luce nella notte, lo spettacolo scritto e diretto da Orozelli è andato in scena in anteprima nazionale al Teatro Savoia di Campobasso. Lucia è un'opera prima, parla della vita di Santa Lucia e ho cercato di raccontare appunto questa storia molto particolare, molto bella e anche molto moderna di questa ragazza emancipata che è vissuta 2000 anni fa. Un lavoro che nasce qui in Molise, come mai? Come nasce appunto quest'idea, questo progetto qui in Molise? Nasce dal Molise perché nasce dalle amicizie, da questa compagnia meravigliosa molisana che si chiama appunto Le Matite Spuntate, proprio di Campobasso e poi ho usufruito di tantissime risorse appunto tanti artisti molisani di tutto Molise, ma c'è anche un corpo di ballo che non è proprio molisano ma che è marchigiano e abruzzese. Possiamo fare un bilancio dello spettacolo? Guarda, io assolutamente positivo, inaspettatamente positivo perché visti appunto tutto quello che abbiamo passato in questi due anni nel settore dello spettacolo, assolutamente positivo, abbiamo avuto già due sold out. Progetti per il futuro, dopo la tappa molisana ce ne saranno altre? L'intento è questo, l'intento è questo, abbiamo già avuto delle bellissime segnalazioni sia dal Molise, dall'altra città di Molise, che da altri posti, altre regioni per cui assolutamente sì Lucia deve volare, deve decollare. Cos'è la morte di prima? Di fronte alla vita eterna e il paradiso.